Fra poco si inizia come dicevo difficilissimo trovare un posto il 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 Con un po' di prepotenza sono entrato nella gabina Regia, dove i tecnici stanno preparandosi per seguire gli artisti sul palco. Dime almeno il tuo nome. Alessandro. Di dove c'è Alessandro? Il tuo nome. Il padre di Cinaia. Lua. Lua. Lua, bravo. Grazie. Lua, bravo. 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 Grazie, grazie. Fabio, Fabio. Solo due parole. Due parole per un povero Cristiano. È tardissimo, sono già riparo. Sei forte, grazie. Ciao. Vediamo. Non ti vale di che sei male. Grazie. Grazie.